La nostra azienda produce prodotti senza glutine, quindi nasce solo ed esclusivamente con la produzione di prodotti senza glutine. I nostri prodotti sono anche senza grassi idrogenati e con pochi zuccheri, quindi il nostro obiettivo è produrre dolci assolutamente salutistici. Noi nella nostra gamma abbiamo una serie di torte a base mousse, quindi torte moderne, abbiamo anche delle monoporzioni per il settore ristorazione, il cuore caldo che è un prodotto molto interessante e molto richiesto alla nostra clientela e in ultimo la nostra novità che è la mousse cake che è un prodotto naturalmente molto appetibile a qualsiasi ora come snack. La nostra azienda ha il sito produttivo ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, poi naturalmente abbiamo sviluppato il mercato attraverso i distributori in tutti i settori dell'alimentazione e della ristorazione in genere e stiamo crescendo sia nel mercato italiano che anche sul mercato internazionale. Aci Sant'Antonio in provincia di Catania